Allora, buongiorno, lei è la signora? Senta Lusso Nardina E dove abita? Pordenone Pordenone E com'era il suo dito prima di conoscerci? Male Come mai? Eh, se... Non sentivo Perciò sono venuto da voi per trovare i provvedimenti E mi sono trovata molto bene E quindi come si è trovata, appunto, dopo averci conosciuto? Bene, anche l'assistenza era ottima Ok, e suggerirebbe il nostro centro ad altre persone? L'ho detto a diverse persone, dopo se ne sono venute Grazie signora Caterruzza Grazie